ciao a tutti qua da roger avete visto la scritta sul cofano del camper noi siamo partiti io e i miei quattro chihuahua e ufficialmente è partito il tour europeo on the road genova un ponte sul mondo abbiamo fatto delle foto con alcuni giornalisti e degli amici presenti presso dei ferrari questa mattina e ringrazio veramente di cuore la mia cara amica patrizia altobelli e ringrazio antonio gambino consigliere delegato protezione civile ringrazio il caro amico stefano anzelone consigliere delegato allo sport e fabia riotti e claudio cartosio giulio liveri e paolo campanella il mio amico di trekking adesso abbandonato e sponsor non solo sat ileana volterra paola sandei e adesso vedete il brutto è quando si fanno i nomi quando si inizia poi si ha veramente il terrore di dimenticare per qualcuno perché in effetti poi tra una cosa e l'altra è sempre così chiaramente mia sorella il fidanzato maurizio tutti 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 non dovevo cadere in questo ginepraio di nomi in effetti bene allora questo è un primo video siamo ancora in italia è precisamente ho superato adesso sera valle e adesso io e bimbi mangiamo qualcosina anche perché loro è la prima volta che fanno un viaggio così importante in camper e noi avevamo come sapete in spagna facevamo con la macchina avanti indietro però il camper un'altra cosa e quindi insomma vanno un pochettino di remescio come si dice in genovese di pancia bene allora ci vediamo più tardi e niente sul giornaloletto che sabba partirà con roger camp e lei va un piccolo stacchetto musicale va bene qui da roger è tutto passo e chiudo ciao genova